Di questi tempi non si fa che parlare Di uomini grigi che ti vogliono rapire E girano diverse teorie al riguardo Complotti vari, robe dell'altro mondo In realtà il discorso più realistico È senz'altro quello turistico A molti aggradano gli zoo safari A veder giraffe, leoni e facoceri Per lo stesso motivo i suddetti alieni Si recano sul globo terraqueo Allora interessano i paesaggi ameni E non dobbiamo spaventarci anzi Si dovrebbe istituire un apposito Ministero per il turismo agliero Così da incentivare le visite guidate Così da organizzare il traffico Musei, monumenti, la grande bellezza Valorizziamo il nostro pianeta Vengo qui, il nostro Vengo qui, il nostro Vengo qui, il nostro E perché Perché no Vengo qui, il nostro 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 Vengo qui, il nostro